Carosello è un dondolo per due persone che interpreta il tema della design competition promosso da Regione Lombardia per Expo Dubai 2020. Abbiamo partecipato anche perché era una bella opportunità che Regione Lombardia stava offrendo e eravamo nella tematica che proponevano appunto di sviluppare. Abbiamo pensato un po' a quale tipo di nuova luce potesse essere interessante mostrare nel panorama del design. Allora l'idea è stata quella di mettere a tutto tondo il fruttore e allora abbiamo pensato a delle poltrone, a delle sedute. La design competition è un aiuto a farci conoscere, abbiamo modo di sperimentare, conoscere materiali nuovi, conoscere anche altre persone che ci aiutano anche poi nel lavoro di tutti i giorni, non soltanto legato al progetto. Grazie! Grazie!